A partire dagli anni 50 nel panorama italiano c'è un ricco e proficuo dibattito tra designer. Questo porta alla creazione di una linea italiana che però si esprime soprattutto in prodotti comici destinati alla fascia medio alta della borghesia. Ai prodotti che sono diventate vere e proprie icone del design abbiamo dedicato, come ben saprete, una serie di podcast su questo canale. In più, se volete approfondire, ci sono un'altra serie di contenuti disponibili online sul nostro blog www.notizie.dimanoinmano.it L'elemento di reale diffusione che porterà ad una produzione di livello anche popolare fu il nascere e il fiorire di centinaia di laboratori artigiani, soprattutto in Lombardia e nello specifico in Breganza. Guardando gli esempi pubblicati sulle riviste furono capaci di produrre in modo artigianale mobili, lampade, imbottiti, molto vicini al gusto e dalle linee del nuovo stile italiano. Stile che abbiamo cercato di mettere in luce con i nostri corner mix. Una serie di post, comparsi sul nostro blog, con una composizione di prodotti per lo più senza firma. Anche il più piccolo laboratorio di falegnameria, infatti, imparò a costruire cassettoni o tavoli alla Icoparisi, o banconi da bar alla Giuponti. Come piccoli laboratori elettrici produssero lampade, a plic, lampadari simili a quelli proposti da Arteluce o Artemide, mentre imbottitori si sbizzarrirono nel produrre sedute, poltrone e divani alla zanuso. Proprio questa produzione popolare permise la vera e propria rivoluzione culturale dei segni che i designer auspicavano. Seppur scavalcati nella loro progettazione, fu proprio questo saccheggio indiscriminato che permise la diffusione capillare di uno stile tutt'oggi molto apprezzato. Stile che è possibile scoprire nei nostri negozi, data la facilità con cui riusciamo a reperire arredi dalle case italiane, che con cura e attenzione permettiamo nuovo. Proprio agli arredi ai complementi del XX secolo è dedicato l'evento Moving, in programma dal 18 al 27 settembre, in Viale Spinasse 99. Solo sabato 19 settembre, una grandissima opportunità. Vi portiamo a scoprire i nostri magazzini di Cambiago, con più di 4.000 metri quadri di arredi antiche del XX secolo, sedute, complementi, opere d'arte, statue e bronzi, con un servizio di maletta gratuito. Se siete interessati, potete prenotare la vostra forza via WhatsApp al numero 339 128 2198. Ci teniamo a sottolineare che la prenotazione è necessaria nel rispetto delle normative anti-Covid. A presto!